Pensa alla musica come veicolo di gioia e come veicolo di condivisione. In questo momento noi faremo cantare le persone, le faremo divertire, ma con lo scopo di realizzare un progetto veramente titanico, ma molto bello. La creazione del primo poliambulatorio sociale regionale, che verrà creato dalla Fondazione Rime per un Sogno, insieme ai Club Lions di tutta la Calabria e insieme alla Regione Calabria. Un evento di beneficenza organizzato dalla Fondazione Rime per un Sogno e il gruppo musicale Canto l'autore ad aglietare il pubblico con le sue emozioni note. L'obiettivo è proseguire nell'opera di Benevicenza sposata nove anni fa. Il Sogno del Biennio 2024-2025 è di realizzare un poliambulatorio specialistico sociale a San Lucido e Crotone ha saputo rispondere con dignità alla chiamata dei Confì di Calabria. Questo viaggio di cantautorato italiano, che sarà molto bello, molto intenso, la gente canterà dall'inizio alla fine, e poi gioiendo con la musica riuscirà a darci una mano a realizzare questo sogno. State portando in giro in realtà questo spettacolo, cioè Crotone è una delle tante tappe. Sì, siamo partiti da Cosenza perché siamo cosentini, il 7 aprile siamo stati a Rendano, ora siamo qui, il 20 siamo al Politeama e poi iniziamo il tour estivo. Andremo anche fuori dalla Regione perché è un qualcosa che piace, te ne renderai conto poi vedendo la serata. Che cos'è Confì di? Lo diciamo a favore di pubblico. Il Confì di è il nostro partner ufficiale, il Confì di non è altro che una struttura di garanzia per l'accesso al credito alle aziende. Aiutiamo tutte le aziende del nostro territorio a facilitare l'accesso al credito. Voi insomma, come dire, vi fate garanti per chi ha necessità che qualcuno presti i soldi, però non dimenticate insomma che i soldi non sono tutto e c'è bisogno che un pezzo di questi soldi finisca in beneficenza. Hai calzato in pieno, sì. Quello che facciamo noi è garantiamo l'istituto bancario affinché l'azienda venga sonvenzionata con i tassi migliori e nel frattempo doniamo il 3% del fatturato annuo per la realizzazione di questo sogno. Grazie.